Silvia Mencaroni, Assessora della Cultura delle Comuni di Monterchi. Silvia, per il tredicesimo anno si rinnova l'appuntamento ormai tradizionale con il Monterchi Festival. 13 edizioni e 13 gli appuntamenti in programma per il 2018. Dal 21 di giugno al 2 di agosto, ogni martedì e ogni giovedì, le due location come sempre sono Piazza Umberto I e il Giardino dei Musei Civici. Ci saranno spettacoli di musica principalmente, quindi avremo jazz, musica classica, ma anche momenti dedicati alla letteratura con artisti e scrittori del panorama nazionale che appunto verranno a Monterchi proprio per dare anche una spinta diversa al festival e quindi introdurre comunque, come già abbiamo fatto anche l'anno scorso, questo momento dedicato alla letteratura che è scrivere e leggere che ci aiuta ad avvicinare un po' il pubblico anche alla tematica appunto della lettura. L'invito è quello di salire ogni martedì e giovedì a Monterchi per raccogliere un attimo, raccoglierci anche in un momento di silenzio dedicato all'ascolto, perché comunque l'ascolto presuppone il silenzio e presuppone anche un momento di riflessione. World Food Program è un programma dell'ONU che contrasta la fame nel mondo. Noi siamo stati molto onorati comunque di avere il patrocinio di un organismo internazionale che opera in questo senso e ringraziamo anche il contatto e la persona con cui abbiamo intrattenuto rapporti in queste settimane, che è la dottoressa Pain, Sofia. La riflessione magari anche attraverso proprio la collaborazione anche che c'è stata e il patrocinio anche con organismi come la Camera di Commercio, come Confesercenti, Vetrina Toscana e Commercio sarà proprio quella anche indirizzata a sostenere questo programma di World Food Program in un territorio in cui comunque non ci sono determinate problematiche, ma è importante comunque sensibilizzare le persone su queste tematiche. In un mondo in cui le conferme sono per le rare, sono contento di questa mia piccola conferma, posso dire che il Montecchi Festival di quest'anno fa uno scatto in avanti rispetto a quello dell'anno scorso che peraltro era già a ottimo livello. Abbiamo delle figure di livello e di caratura internazionale se non mondiale che partecipano al festival senza dimenticare le figure più rappresentative del territorio, sia nell'ambito musicale che in quello parallelo o comunque convergente della letteratura e del teatro. Quindi nel complesso siamo molto molto soddisfatti e speriamo che anche tutti quelli che avranno la bontà di partecipare agli eventi di quest'estate la pensino poi alla fine come noi, perché la fatica che abbiamo fatto è stata tanta, l'impegno è stato tantissimo e quindi speriamo che i risultati siano commisurati a quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Ecco Antonio, quali saranno gli artisti principali di questo tabellone? L'esordio, come si suol dire, è col botto, perché il 21 giugno, Feste Europea della Musica, solstizio d'estate, ci sarà Enrico Perannunzi, col quale io da ragazzo ero amico, poi le nostre strade si sono divise e le ho ritrovato. Enrico Perannunzi oggi è considerato uno dei massimi pianisti jazz viventi che ha suonato con i più grandi musicisti solisti del panorama jazz del Novecento, della storia della musica jazz e ha inciso una quantità enorme di CD, di dischi, prima e quindi in vinile. Enrico ci fa questo regalo, viene a suonare da noi con la sua vocalist Simona Severini e quindi l'esordio è dei migliori che si potesse sperare. Poi ci sono altre serate molto importanti, interessanti, c'è quella di Joyce Clark, che è una pianista classica inglese. Il 12 luglio c'è il quintetto sonoro di Bucharest, sono cinque solisti che suonano in tutto il mondo, nei più grandi teatri, musica classica. Abbiamo poi il teatro, Paolo Danna, che ha uno spettacolo nel quale racconta Pasolini. Poi c'è Manuela Boni, un mezzo soprano milanese, il cui spettacolo è un mix di teatro e musica, arie di Masne, di Verdi e altri grandi compositori, e racconta l'amicizia di Sara Bernard con Felix Nadar, il fotografo. C'è anche una serie in cui ci sarò io con Giannina Raspini e un altro lettore, racconteremo in uno spettacolo, si chiama Il fiume del tempo, parole e musica nell'albero della vita. Raccontiamo la vita dell'uomo attraverso un collage, un montaggio di brani di prosa e di poesie di autori importanti del Novecento. La cosa più importante è vedere la locandina, vedere il manifesto, leggere e intascarsi la brochure, e soprattutto venire a Monterchi nelle serate del festival, che saranno sempre di martedì e giovedì, a partire dal 21 giugno, e concluderemo con Walter Ligi il suo ipotetico trio, perché non si sa ancora chi ci sarà nel trio, il 2 agosto, sperando che il tempo ci assista. Grazie a tutti.